Ciao Toma! Ciao Pepino! Caffè? Si! Ciao Toma! Che hai fatto con la testa? La testa? Si vede? Appena appena Stamattina è stato il colpo della strega Che cosa? Il colpo della strega Vedi che il colpo della strega viene alla schiena? Il colpo della strega di mia moglie Il colpo della strega Una strega Ehi, una strega Vuoi un voccetto di strega? Eh, no vabbè no, caffè